Da domani la Lombardia torna a zona arancione, riaprono tutti i negozi compresi abbigliamento e calzature e anche i centri estetici. Tornano a scuola i ragazzi delle meti e per quelli delle superiori lezioni in presenza al 50%. Bar e ristoranti restano chiusi tranne che per l'asporto. Resta in vigore il coprifuoco dalle 22 alle 5. Nei weekend nei centri commerciali sono aperti i supermercati e altri punti vendita di generi alimentari e di prima necessità farmacie, tabacchi, edicole, lavanderie. Resta il divieto di uscire dal proprio comune salvo che per comprovati e giustificati motivi di lavoro, salute e necessità o per fornirsi di prodotti e servizi non disponibili nel proprio. Restano chiusi musei, piscine, palestre, cinema, teatri. È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Consentito altresì far visita a parenti e amici una volta al giorno a un massimo di due persone, più minori o disabili. Chi vive in un comune con meno di 5.000 abitanti invece può spostarsi anche entro un raggio di 30 chilometri ma non per raggiungere il capoluogo di provincia. Quando si esce dal proprio comune occorre avere con sé l'autocertificazione.